Signore e signori, a ora inizio, la cebolla di preparazione della finale di Ticap 2011-2012. Signore e signori, a ora inizio, la cebolla di Ticap 2011-2012. Signore e signori, a ora inizio, la cebolla di Ticap 2011-2012. Signore e signore e signore e signore, signore e signori, a ora inizio, la cebolla di Ticap 2011-2012. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.